Le rivendicazioni più incontenti in ambito nazionale, soprattutto relativamente alla pubblico impiego, e poi a livello locale agrigentino nel settore nettezza urbana, del sindacato CONFAEL, la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori. Ascoltiamo gli agrigentini, Giuseppe Mancuso, segretario confederale nazionale CONFAEL, con delega alla pubblico impiego, e poi Mallio Cardella, segretario provinciale CONFAEL, di agrigento. Si è celebrato il congresso nazionale della CONFAEL a Fiuggi. Giuseppe Mancuso è il segretario confederale nazionale, con delega alla pubblico impiego. Impegni e prospettive emerse a livello sindacale. Dal 15 al 17 dicembre si è fatto il congresso nazionale a Fiuggi della CONFAEL, il secondo congresso, dove sono stati eletti gli organi statutari. Sono stato eletto segretario confederale e il segretario generale mi ha dato la delega al pubblico impiego. Ed ecco perché oggi mi trovo ad agrigento, oltre che ad essere la mia provincia nativa, perché proprio da agrigento vogliamo lanciare un messaggio nuovo di fare sindacato, soprattutto all'interno del settore del pubblico impiego, dove nel 2018 ci saranno le elezioni RSU che ci devono portare al raggiungimento della rappresentatività, cioè diventare un sindacato firmatario di contratto. Nella provincia di Agrigento ci siamo affidati all'esperienza del dottor Maglio Cardella dal punto di vista confederale. La prospettiva generale per quanto riguarda la mia delega è quella di dare il giusto riconoscimento giuridico ed economico del lavoro svolto giornalmente ai dipendenti pubblici. E' chiaro che in una visione europea, ecco la colonna portante della Confaelle, infatti abbiamo anche nel nostro logo rappresentato dall'Europa, i dipendenti italiani devono essere equiparati ai dipendenti europei, il che significa che lo stipendio deve aumentare. Faccio un esempio molto banale, soprattutto nel comparto scuola. Nel comparto scuola all'interno del pubblico impiego i dipendenti sono quelli meno pagati di tutti. pur svolgendo un lavoro di una certa importanza dal punto di vista didattico. Ecco la finalità e l'obiettivo della Confaelle, ridare dignità ai dipendenti pubblici che in questo momento, grazie, devo dire soprattutto, agli inciuci fatti dalla Triplice con i vari governi, purtroppo veniamo visti come quelli che non fanno nulla. In ambito provinciale, pertanto, il segretario provinciale della Confaelle di Agrigento, Maglio Cardella, una avvertenza incombente attuale è l'avvertenza relativa al personale presunto in esubero della nettezza urbana. Lo stato dell'arte del contenzioso? Lo stato dell'arte è limitato a un'iniziativa forte della Confaelle che ha chiesto al nuovo presidente della SRR, il sindaco di Campobello di Licata, un incontro per istituire un tavolo tecnico che affronti globalmente due problematiche. La prima, quella del prossimo bando di gara che dovrà gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a valere su tutti i comuni che fanno parte della SRR. e quindi in questo caso vi entreranno due questioni fondamentali. La gestione delle risorse umane e soprattutto chi deve i costi di questo servizio. Cito i costi perché nessuno oggi parla di ciò che oggi pagano gli utenti di Agrigento in termini molto esosi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi un tavolo tecnico che veda la presenza del Dipartimento regionale dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento che non dimentichiamo emette le ordinanze per le quali il Comune di Agrigento è stato costretto a conferire alla discarica di Lentini. Ciò ha comportato sull'Atari del prossimo anno un appesantimento di ben 2 milioni e 900 mila euro che, desidero ricordare, sono a carico degli utenti di Agrigento. Quindi questa è la prima questione. La seconda è che non si capisce perché non dobbiamo parlare di un abbassamento di costi, del servizio, mentre parliamo continuamente di come ridurre il personale se non addirittura provare a sfalmarlo. Ecco, di tutto questo la prossima settimana saremo disponibili a discutere con la nuova SRR.